Non mi sono slogato la caviglia nemmeno una volta, nemmeno una! Da questo momento non devo più essere io l'unico a sapere la formula della pozione magica. Cosa? Quindi mi metterò alla ricerca di un giovane successore a cui confidarla. Cosa? Silenzio. Melina! Ah, Panoramix, lo so, non dovevo nascondermi là dentro. Pensavo di uscire prima, ma mi sono addormentata. Panoramix, ti presento Bitnix. Tutti mi chiamano... Magnetics. Uno. Laggiù è la nostra ultima speranza. Mi piace quel tizio. Eseguo il mio incantesimo, Elementarix, e ti prometto che la pozione magica sarà tua. Che cosa avrei mettere, Amcorix? Questa sera metterò fine al villaggio di quei gaffuti. Sarà la fine per Asterix. Tirate su i polli! Ora questo. Asterix è il segreto della pozione magica. Dal 7 marzo al cinema. Che dice il panzone con le treccine? Mi fa sfidare l'altra volta! Ha! Che dice il panzone! Grazie a tutti.